Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene, oggi siamo qua perché voglio farvi vedere le ultime cosine che ho comprato ma prima di iniziare come sempre vi ricordo di lasciarmi un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto tanto come vi ricordo sempre per voi è assolutamente tutto gratuito ma a me serve per mantenere in vita il canale Iniziamo subito con due acquistini che ho fatto su Amazon e che in questo momento non riesco a farvi vedere fisicamente perché il corriere mi sta consegnando il pacco ma ci vorrà ancora mezz'oretta basandomi sull'orario standard in cui appunto i postini e i corrieri mi consegnano i pacchi Mio padre mi ha chiesto di comprare un paio di stivali per stare in giardino, quelli classici di gomma e tanto che c'ero voluto fare due acquistini e ovviamente parliamo dei libri perché ho trovato due occasioni fantastiche Da poco è uscito un romanzo che si chiama La psicologa di B. Hay Paris Scusate ma sto guardando lì perché non avendoli qua mi sono un attimo scritta le informazioni di questi libri e come sempre è un giallo barra thriller, sapete che è la mia corrente preferita insomma che leggo sempre però effettivamente ha un costo abbastanza alto e se mi seguite sapete che leggendo tanto non compro spesso in libreria a prezzo pieno ma compro solamente in libreria quando trovo qualche saldo altrimenti su Vinted faccio scambi di libri al mercatino dell'usato e quant'altro Ho trovato appunto due offerte su Amazon della stessa autrice e ho deciso appunto di prendere questi libri il primo è Il Dilemma perché l'ho trovato solamente a 5,50€, 5,60€, ora non mi ricordo comunque qua vi metto la fotocopertina e la trama così che se vi può interessare fate il salvaschermo e ve la leggete e giù nell'info box vi metto anche il link così se vi può interessare cliccate e acquistate anche voi ed è edito per Thea di cosa parla Il Dilemma? Il Dilemma parla di Livia che quando si è sposata non ha potuto fare la classica festa del matrimonio ed essendo arrivata a 40 anni ha deciso appunto di festeggiare in grande e organizzare una festa veramente grande Livia è sposata e sua figlia studia a Hong Kong Il marito nel frattempo senza appunto che lei lo sappia decide di fargli una sorpresa e di far arrivare appunto la figlia durante la festa proprio durante la festa Livia aveva deciso di rivelare al marito un grande segreto di famiglia che tratta proprio della figlia ma ha deciso appunto di non riovinarsi la propria festa da sola e parallelamente il marito scopre un segreto che riguarda la figlia ma decide anch'esso di non rivelarlo appunto durante la festa per non rovinare appunto a questa tanto sognata festa di compleanno non si sa se ovviamente il segreto sia lo stesso se sono due segreti però nonostante lei appunto abbia deciso di non rivelare il segreto esattamente come lui durante la festa il segreto verrà a galla appunto durante questa benedetta festa quindi appunto parliamo sempre di famiglie segreti di famiglia famiglie un po' spezzate, un po' interrotte insomma la tipologia di libro che piace a me e sempre della stessa autrice ho deciso di prendere non dimenticare sempre edito per Thea e sempre preso a 5 euro circa perché li ho presi entrambi in copertina flessibile mentre la copertina rigide ha un prezzo che si gira intorno ai 18 euro di cosa parla di non dimenticare parla di una coppia Flynn e Finn dovrebbero chiamarsi i protagonisti una coppia molto giovane molto innamorata durante un viaggio lui si ferma ad una stazione di servizio scende e quando ritorna lei non c'è più scompare dopo 12 anni lui si crea una famiglia con la sorella di lei ma un giorno quando a pochi giorni dalle nozze un ex vicino di casa di lui gli dice di aver visto una ragazza appunto che assomigliava alla sua amata e la sorella della scomparsa un giorno fuori dalla porta di casa trova una matrioska lui si preoccupa perché anche lui poi troverà una matrioska e questa matrioska porterà a galla un vecchio segreto perché forse non è stata lei a scomparire quella famosa notte all'autogrill ma forse qualcosa è successo insomma come potete vedere a me tutti questi intrighi mi piacciono veramente veramente tanto ovviamente ho preso anche un libro dalla Giunti perché sono stata abbrugnato con Antonio ormai è un punto è un punto lo trovo fisso quello abbrugnato e lì c'è la Giunti e la Giunti nonostante sia piccolo quindi non è ben rifornita ma comunque ha sempre tante novità ma soprattutto ha un intero scaffale dedicato a libri in saldo più o meno recenti ma si fanno veramente degli affari stratosferici tant'è che ho deciso di prendere questo libro che costava che costa 14,90 io l'ho pagato solamente 4,47 euro quindi di cosa stiamo parlando comunque ho deciso di prendere questo libro di Cinzia Pennati il matrimonio di mia sorella ora se riesco tolgo il bollino con il prezzo così che vi faccio vedere la copertina ovviamente è edito per Giunti e sono riuscita a trovarlo appunto con il 70% di sconto ecco qua questa è la copertina flessibile e di cosa parla? parla tratta della storia di due sorelle Celeste e Agnese ognuna fa la sua vita Celeste è la prediletta di famiglia la preferita degli amici ha tantissimi corteggiatori mentre la sorella più grande Agnese decide di sposarsi in tarda età perché rispetto a Celeste ha sempre vissuto una vita dietro diciamo gli spalti dietro in regia adesso ha 40 anni appunto ha già due figlie ha un lavoro e un un marito però poi esattamente il giorno del matrimonio si chiede se appunto le stia sposando realmente il suo amore o se lo sposa perché ormai diciamo la sua vita è scritta e mentre si fa questa domanda un po' aiutata a arrivare alla soluzione con sua madre anche qua emerge un segreto di famiglia e farà cadere per sempre i capisaldi della vita delle due sorelle quindi anche qui famiglia anche qua giallo anche qua intrighi insomma io completamente innamorata tra l'altro è piccolino perché sono solamente 259 pagine però è scritto anche grande quindi sicuramente farò in fretta a leggerlo però mi ha colpito veramente tanto e ho deciso di prenderlo poi sono entrata in un negozietto nel quale non sono mai mai assolutamente entrata perché è un negozio dove ogni singolo articolo ha un bel prezzo e infatti di solito questo negozio è più o meno sempre vuoto però appunto ieri ci sono ci sono passata davanti e ho visto il pienone quindi ho detto qua qualcosa sta bollendo in pentola e infatti ho fatto un acquistino sto parlando di rinascimento un brand totalmente italiano c'erano diverse cosine che mi piacevano infatti ho provato mezzo negozio però diciamo che le taglie erano alquanto strane nel senso che la S non era una S ma era una quinta XS e le XL tipo dei pantaloni alcuni mi andavano altri non salivano dei maglioncini alcuni erano grandi altri oddio veramente veramente strana e infatti ho preso solamente un articolo alla fine e ho preso un paio di pantaloni neri classici da sultare tra la primavera e l'estate allora intanto vi dico il prezzo questo prezzo pieno costava 59 euro ho preso un XL prezzo altrett 39 euro io con lo sconto del del 60% l'ho pagato solamente 15 e 60 ecco qua non avevo un pantalone di questa tipologia quindi per il prezzo il materiale è veramente buono ho deciso di prenderlo allora il pantalone in questione è questo è classico nero con la culisse in vita così ve lo segno un attimino ha anche il nastrino per stringerlo qui appunto ha il marchio di rinascimento nel cuoricino dietro ha una una tasca finta perché ha un taglio molto elegante poi cade giù fino alla caviglia stretto anche se qua sembra largo con appunto proprio il taglio elegante veramente veramente bello non avevo nessun pantalone praticamente di questa tipologia nell'armadio poi non avendo diciamo qua i bottoni anche se si usa magari la sera con un bel blazer sopra una bella camicetta sotto anche se si va a mangiare se mangia un po' di più non avete diciamo i bottoni che vi si conficcano nella pancia molto morbido molto elegante o con una scarpa bassa elegante o con un tacco questo con una camicetta con un blazer insomma questo qui non l'ho preso per tutti i giorni ma l'ho preso per delle occasine un pochino più particolari poi ovviamente essendo nato e creato in Italia sicuramente è un ottimo prodotto infatti anche il tessuto è molto valido poi ripeto quando l'ho visto per questo prezzo ho deciso di prenderlo immediatamente volevo prendere anche un blazer nero che ne ho uno però quello che ho è un po' più strutturato infatti l'ho utilizzato per la laurea trenale e poi l'ho rimesso sopra anche per la laurea magistrale è un pochino più strutturato invece ne sto ne sto cercando uno un pochino più easy un pochino più sciallo e l'avevo trovato tant'è che costava 100 euro l'avevo trovato a 28 euro quindi nulla mi gina ma nonostante fosse un XL si fermava qui cioè non sa veramente strano comunque sia e poi ovviamente abbiamo svaliggiato la Nike perché siamo usciti tipo con 10 cose 5 io 5 Antonio e una cosa per Zeus perché Zeus e Antonio hanno voluto prendere una palla giallo fosforescente con il simbolo con il baffo bianco per Zeus perché era bello dura e quindi sicuramente non se la sarebbe mangiata come tutte le altre palle e infatti sta durando poi costava tipo 8 euro e 99 l'abbiamo pagata tipo 5 euro perché sul prezzo outlet se voi prendevate due o più articoli avevate il 25% quindi veramente abbiamo fatto degli affaroni come prima cosa ho deciso di prendere questo marsupio semplicissimo in questo color nude cappuccino con la scritta bianca Nike Antonio ogni tanto usa il marsupio ma semplicemente perché magari quando utilizza la moto d'estate giusto per andare al lavoro per andarsi a prendere un caffè con gli amici piuttosto che usa il marsupio perché è facile è veloce e almeno mette tutte le sue cose all'interno lui ce l'ha già in verde bosco ma essendo che a maggio per il suo compleanno andremo in un posto che però non rivelerò così la gente non mette gli occhi addosso dove ci sarà da camminare tanto perché è un posto diciamo da scoprire a piedi c'è da fare tanto trekking e quant'altro ho detto inutile che mi porto la borsa da fighetta ho bisogno di qualcosa di selvaggio e quindi questo qua me lo metterò a tracolla e lo utilizzerò come borsetta così che comunque posso portarmi dietro tutte le mie cose perché è molto capiente perché ha questa questo scompartimento qua e poi questo qua sul davanti e poi essendo di questo tessuto si allarga finché voi mettete tutto dentro allora questo costerebbe 19,99 prezzo outlet 13,99 c'era uno sconto perché era l'ultimo rimasto a 6,99 io l'ho pagato una cavolata perché sopra c'era il 25 applicato quindi da 20 euro a tipo 4 euro non potevo lasciarlo lì considerando appunto che ci servirà e poi comunque sia prima che dopo la vacanza almeno Antonio se lo sfrutta ripeto per andare al lavoro per quando appunto usa la moto per fare dei piccoli spostamenti poi Antonio si è preso una ora vi faccio vedere una non vi faccio vedere esattamente cosa si è preso perché le cose d'uomo non sono molto interessanti però comunque sia ora vi faccio vedere tutto allora io mi sono presa questa classica t-shirt bianca semplicissima è una fruit bianca semplicemente con la particolarità di avere il baffo nero qua davanti qui ho preso un XL così è bella ampia bella morbida questa costava 24,99 oddio scusate la gatta 24,99 quindi 25 euro prezzo outlet 7,99 anche questo l'ho pagata intorno ai 5 euro perché appunto c'era il 25% questa è la presa uguale identica Antonio perché lui 365 giorni l'anno lui indossa magliette che d'estato ovviamente indossa magliette o camice d'inverno le mette sempre sotto le felpe o sotto i maglioni quindi lui veramente ha un grande bisogno di ricambio di t-shirt scusate se sentite i rumori ma qui davanti a me ci sono i due gattini che giocano con la carta cartocciata e io l'ho presa perché? perché la maggior parte delle mie magliette bianche le ho rovinate lavorando al centro estetico e come i colori entrano nei nei fili delle magliette non se ne vanno più via quindi devo fare una grande pulizia e quindi ho bisogno di riintegrare magliette bianche io queste qua le utilizzo sotto i blazer perché la maglietta bianca ovviamente va bene sia con un blazer di un solo colore sia quelli un pochino più lavorati un pochino più colorati semplicemente come magliettina a maniche corte d'estate per andare in moto sono super super comode pratiche insomma anch'io d'estate di prima vera le uso veramente tanto e appunto l'ho presa XL così è bella lunghetta bella over da mettere anche sopra i ciclisti o sopra i leggings quando vado in moto top e ripeto questa se l'è presa uguale anche Antonio e poi sempre per quanto riguarda magliettine bianche mi sono innamorata completamente di questa anche questa è una semplice fruit bianca ma la particolarità di avere queste rose ricamate sul logo è meravigliosa questa prezzo outlet 32,99 quindi 33 euro scusate prezzo di sino prezzo outlet 22,99 io l'ho pagata tipo mi pare nemmeno 15 euro con il 25% di sconto ecco qua e questa è una M perché erano rimaste solamente S ed M ma vedete è larghina ecco qua quindi ho deciso comunque di prenderla perché sicuramente andrà bene e anche questa l'ho già immaginata sotto il mio blazer rosso e anche sotto il blazer verde che appunto riprendono i colori o anche appunto da sola veramente veramente carina me ne sono innamorata subito poi io non ho nulla di grigio nell'armadio se non per un maglioncino che non mi piace nemmeno troppo e considerando che ormai sono quasi tre anni che io e Antonio stiamo insieme e lui sapete che veste fondamentalmente solo sportivo mi sta un po' deviando anche a me infatti vedete ho la tuta ma non troppo nel senso che io mantengo il mio stile però mi rendo conto che ci sono alcune occasioni che una felpina un pochino più semplice una tuta fanno comodo tipo quando magari si va via tutto il giorno c'è da camminare tanto oppure tipo io adesso oggi ho la tuta perché sono in quel periodo del mese quindi non ho voglia di jeans di cose attillate di stivali no mettete una tuta un paio di sneaker e sono veramente comoda e di conseguenza ho deciso di prendere questa felpina grigia perché questa veramente cioè ridicolo costava di prezzo listino 60 euro prezzo outlet 25 io l'ho pagata anche qui 16 euro una cosa del genere guardare per per credere cioè è felpata e comunque è brandizzata nike comunque si sa che ormai la nike sta anch'essa già costa abbastanza poi con tutti questi rincari sta aumentando comunque è una classica felpina grigia con il simbolo nike Antonio l'ha presa uguale identica semplicemente nera perché anche lui non aveva nessuna felpa nera gli hanno regalata una a San Valentino ma col cappuccio ne voleva una senza e quindi ha deciso di prendere questa considerato il prezzo è semplicissima e anche questa è un XL è gigante veramente perché ripeto io queste non le metto tutti i giorni le metto solamente in quelle occasioni in cui voglio essere particolarmente comoda e quindi l'eccola qua veramente bellina e poi come ultima cosa sono riuscita a prendermi una felpa vista diversi mesi fa e per la quale ho avuto un grandissimo un grandissimo colpo di fulmine tantissima che Antonio ha provato anche a cercarmela sapete sul Zorando ma non è riuscito a trovarla perché stava sempre esaurita l'ultima volta che siamo stati abbrugnato non c'era sono tornata appunto ieri e c'era e quindi ho deciso di prenderla prezzo listino 60 euro prezzo outlet 42 euro io l'ho pagata intorno a 28 euro 30 euro sempre col 25% di sconto e sto parlando di questa felpina qua mi sono innamorata di questo color corallo con semplicemente queste questi due baffi sull'aranciato che riprende un po' il colletto e poi appunto che si ripete dietro questa diciamo che è un po' nello stile di questa felpa perché vedete che anche qua ha le rifiniture bianche e qui appunto ha le rifiniture arancionine come i baffi anche questa ho voluto prendere una L perché c'erano solamente S, M, L ma comunque è gigante avrei potuto benissimo prendere una S che mi sarebbe andata bene però quando vesto tute voglio proprio essere cioè avere uno stile streetwear streetwear quindi oversize insomma così mi sta prendendo così nulla veramente veramente bella sono felicissima di averla trovata di averla pagata poco nulla top veramente e nulla questo è stato tutto il mio shopping io come sempre spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo ciao